...perata, io devo dire che sono molto emozionato di presentarla perché io penso che ce ne sono tanti che oggi fanno musica, fanno tutto questo, però lei lo fa in un modo particolare, in un modo unico, è una grande autrice, una grande voce, una grande donna, tutto questo è Nezzi! Buonasera, grazie, buonasera a tutti voi, mamma mia, grazie di siena, dai supermani, rimanissi a te, pronti! Ma nessuno domate, ma fatto veramente a namurà, visto se è fatto vantare, non può stare, ma non può stare, ma non può fare. Buonasera, grazie, buonasera a tutti voi, mamma mia, grazie di siena, dai supermani, rimanissi a te, pronti! Buonasera, grazie, buonasera a tutti voi, mamma mia, grazie di siena, dai supermani, rimanissi a te, pronti! Se va sempre più forte, con le t'idea d'avere Accomandamento, oggi c'è più bella moment Se mette vorreste, lo posso raccogliare Ti amo più di me, e ti amo a restare un minuto E sta vita, un'unica noia Pugno si già ficcia la gamba, ma tutto Vosso vittu un amore E' un po' tra pace con te E' un po' tra pace con te Ti amo più forte, con le t'idea d'avere Accomandamento, oggi c'è più bella moment Se mette vorreste, lo posso raccogliare Ti amo più di me, e ti amo a restare un minuto E sta vita E' un po' di sì, buonasera di chi vuoi troppo via Ed era un po' tra mezzo, e allora io prima